Mia, finalmente che c'è! Noi siamo molto contenti che sia stata creata questa opportunità, ce n'era la necessità, se ne sentiva la mancanza, è un ottimo prodotto, un'organizzazione impeccabile, la prima edizione ha avuto un grande, secondo me, successo di pubblico all'inaugurazione, speriamo anche nel prosieguo e soprattutto noi siamo molto ottimisti e contenti che finalmente Milano dia il meglio di sé anche in questo campo.